Nella casa del grande fratello si parla della passata edizione di Temptation Island Jessica Morlacchi, infatti, ha palesato di essere un'appassionata telespettatrice del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. La cantante conosce la storia di Martina De Ioannon e Raul Dumitras, e si augurava che dopo l'esclusione di Lino Giuliano, uno di loro due potesse partecipare al reality show condotto da Alfonso Signorini. Lino Giuliano è stato squalificato ancora prima di entrare nella casa, un record, dopo l'insulto omofobo indirizzato al tiktoker napoletano Enzo Bambolina. Al suo posto è entrata Amanda Lecciso, che ha fatto il suo ingresso nella casa durante la puntata di ieri sera insieme a Iago Garcia, Maria Vittoria Minghetti, Michael Castorino e Elena Prestes. Proprio Maria Vittoria ha chiesto a Jessica se sapesse della squalifica di Lino, e la cantante ha risposto che ne era a conoscenza in quanto Signorini ne aveva parlato durante la puntata di debutto. Inoltre, la Morlacchi ha rivelato chi avrebbe voluto che entrasse nella casa. Io volevo vedere Martina e Raul. Tuttavia, come è noto, la De Ioannon è una delle nuove troniste di Uomini e Donne. Chissà, magari più avanti Dumitras potrebbe varcare la Porta Rossa.